Il Big Bang, così come la materia scura, l'energia oscura, i buchi neri, tutte queste cose così familiari a tutti noi, sono costruzioni immaginarie create dai cosmologi, perché sono costretti ad escogitare qualcosa per spiegare i problemi matematici della gravità come collante che tiene insieme l'universo. Questo è quello che a tutti viene insegnato e che tutti credono, cioè che il motivo per cui tutto nell'universo si muove e ruota in modo che vediamo è perché esiste la forza di gravità. Isaac Newton è stato il primo a tirarla fuori, seguito da Einstein. Così abbiamo la fisica newtoniana, la fisica einsteiniana e tutte le varie fisiche attuali. E sono tutte costruite attorno alla gravità come forza che tiene unito il tutto, quando invece la gravità non è la risposta. È ovvio che la gravità non è la risposta, perché a livello matematico non torna. Ma la gravità era una realtà fermamente consolidata, quando cominciarono a capire che matematicamente non funziona. Avrebbero dovuto abbandonare il concetto di gravità molto tempo fa, ma questo non viene mai fatto. Una volta che un modello è consolidato, allora l'attività di tutti gli individui che lavorano con quel modello sarà quella di proteggerlo. Diventa come un tesoro da tenere stretto. E grandi modelli non vengono mai abbandonati senza combattere. Anche quando è evidente al più fesso che quel modello è sbagliato. Continueranno comunque a combattere per difenderlo fino alla fine. Perché cedere porterebbe ad un grande sconvolgimento e al caos. Di tanto in tanto i modelli devono essere modificati. La generazione che cresce, credendo in un certo modello, non si arrenderà mai. Solo morendo lasceranno il campo ad una nuova generazione, che crescerà con la consapevolezza della realtà del nuovo modello. Cresceranno insieme adesso, lo assorbiranno, lo useranno e lo imporranno. Questo è quello che dovrebbe accadere oggi con la gravità. Ed esiste chiaramente un movimento a cui tutti possono avere accesso. E si chiama teoria dell'universo elettrico. Teoria dell'universo elettrico. Con individui come Talbot e Thornhill, che sono i leader in questo campo. Ma vi sono molti studiosi qualificati come PhD, coinvolti nella teoria dell'universo elettrico. Quello che afferma e secondo me stabilisce, è che l'elettricità, ovvero plasma elettrificato, è la forza che tiene insieme l'universo. Non la gravità, ma plasma elettrificato. Questo perché l'elettricità è uno seguito da 39 zeri più potente della gravità. L'elettricità è uno alla 39esima potenza più forte della gravità. Quindi provate ad immaginare delle particelle di polvere. Perché gli scienziati mainstream così ci dicono che tutto è cominciato. Come un fulmine nella pozza d'acqua calda e la vita improvvisamente appare. È un'altra di quelle fiabe che inventano per menti semplici e quindi dicono che due particelle di polvere che fluttuano nella vastità del vuoto spaziale si avvicinano ed hanno sufficiente forza di gravità da unirsi l'una all'altra. Queste due unite si muovono ed incontrano un'altra particella di polvere e l'attraggono. E queste tre vanno, incontrano un'altra particella e l'attraggono. Non è vero? Niente. A livello granulare la gravità non ha alcuna forza. Non riesce a fare così. Semplicemente sbattono e rimbalzano come palle da biliardo e se ne vanno. Non può accadere come dicono loro. Ma quelle due particelle in presenza di elettricità, di plasma elettrificato, che c'è, sta dappertutto e è la minestra dentro cui viviamo. Noi tutti ci nuotiamo dentro ogni minuto, ogni giorno. Ne sono bagnato ora mentre dico queste parole. È dappertutto. Quella è la forza che permette alle particelle di connettersi. Quella forza fa sì che quelle cose accadano. Senza elettricità non c'è gravità. La gravità esiste in presenza di elettricità. E siccome l'elettricità è dappertutto, questo è quello che ha fregato Newton. Einstein e tutti gli altri. Non proprio fregati. Semplicemente non vogliono avere a che fare con queste cose. Non vogliono avere a che fare con i cambiamenti che devono verificarsi per accettare che la gravità è sbagliata e l'elettricità è giusta. E questo vale anche per l'inizio della vita. La nascita del sistema solare. Tutto comincia con un errore che si ingigantisce sempre di più. Non c'è niente di corretto, giusto o vero in tutta quella roba. È sbagliato. Inventano delle cose che vadano d'accordo con il loro modello. È più che evidente che la matematica della gravità non funziona. Pensa che il 95-97% dell'universo dovrebbe essere composto di materia oscura. E là dentro ci dovrebbe essere energia oscura, eccetera. Un enorme volume di quantità sconosciuta. E perché tutto ciò? Perché la gravità è così debole che nelle equazioni quello che risulta spiegabile con essa è tanto così. E quindi devono inventarsi tutto il resto per far tornare i conti. Quando in realtà basta metterci dentro l'elettricità e non è più problemi. I conti tornano. Diventa una regolare, tranquilla equazione. Tutti possono vederlo. Tutti quelli che ci lavorano possono capire che l'elettricità è la risposta. Ora sono relativamente in pochi a lavorare nel campo dell'universo elettrico. Ma verrà un giorno in cui tutta la scienza dovrà confrontarsi col fatto che la gravità deve essere abbandonata e rimpiazzata con l'elettricità. Quando tutti lavoreranno d'accordo sullo stesso argomento allora si potranno ricavare tutte le equazioni e la cosa si risolverà. Ma cambierà completamente il nostro modo di vedere la realtà. Chissà quali saranno le conseguenze. Una delle conseguenze sarà sicuramente l'energia libera. E questo è uno dei motivi per cui non vogliono cambiare il paradigma. Perché ci condurrebbe su quel sentiere che tutti siamo d'accordo di dover percorrere. Ma ci sono forze schierate contro nell'idea di energia libera. Sappiamo quali sono queste forze. Nessuno spinge per questa cosa tra gli alti ranghi perché se lo facessero andrebbero contro a spinte all'indietro. Questo non vuole dire che la gravità non uscirà fuori. La verità esce sempre fuori e questo succederà alla fine. Gente come me ora sono voci che gridano nel deserto. Ma il messaggio lentamente si diffonde di persona in persona come sempre succede e dalla fine si raggiungerà una massa critica. Si arriverà ad un punto di svolta. E dalle persone che rappresentano l'autorità se non lo faranno loro stessi verranno fatte loro domande. Verrà fatta pressione su di loro. E questo cambierà le dinamiche e alla fine avverrà lo scarto. E la nuova realtà dell'elettricità prenderà il sopravvento sulla gravità. È inevitabile. Tra 5, 10, 15, 20 anni non so quando ma accadrà. Deve accadere perché è una cosa vera. Altrettanto ignoranti siamo noi oggi riguardo alla vera realtà. Siamo clamorosamente ignoranti perché questi fatti sono a nostra disposizione. Sono a disposizione dei nostri scienziati ma essi si rifiutano di prenderli in considerazione perché significherebbe cambiare tutto. I libri, ciò che viene insegnato e viene creduto. Nessuno vuole cambiare. Dopo una certa età la gente non vuole più fare cambiamenti ma vuole conservare le cose come stanno. È così che succede e questo fanno. Mantenere le cose come stanno. Ecco perché sono sempre i giovani che fanno le rivoluzioni. I giovani operano i cambiamenti. I giovani non hanno paura dei cambiamenti. I meno giovani invece lo sono. È un peccato ma è così. Siamo inchiodati a queste ridicole e insensate cose che ci vengono propinate come verità dalla scienza ufficiale quando di fatto loro sanno almeno quanto me che quello che fanno è sbagliato. non solo sbagliato ma assurdamente sbagliato vergognosamente sbagliato. Non so come facciano a dormire la notte. Cioè ritirano l'assegno e dormono tranquilli. Ecco come fanno. Riconoscere ed ammettere che tutto quello che hanno creduto e che è stato loro insegnato che hanno difeso e per cui hanno lottato era sbagliato. Una perdita di tempo e alla fine è anche abbastanza stupido. Questo è uno scoglio che tanta gente dovrà superare e sicuramente ci riusciranno. Ma fino a quel momento noi non faremo alcun vero progresso verso il nostro vero, reale futuro.